Amici, vi faccio vedere il Weissberg 50 anni Leggendarico, è bellissimo, guardate, guardate che spettacolo! Allora, innanzitutto il tavolo senza più la gamba, sedili comodissimi, ovviamente Ducato 140 cavalli, uno spazio unico, sicuramente interessante. Lo vediamo, bello, bello, vanno posate, cassette comodi, sì, veramente già questo mi guardo, poi qua abbiamo il frigo, è un po' più piccolo rispetto a quello classico. Cucinotto, fornellino, il letto mi piace questa disposizione, mi piace questa disposizione, anche se per come ci dormo io, sì, volendo uno non si può dividere le doghe. E questa la preferisco il carato, perché io uso un letto solo, scaffalatura interessante, due oblò, appendi abiti, sì, veramente un grandissimo mezzo. Grandissimo mezzo, è il classico cucinotto lavandino Weissberg, sì, forse bagno e letto medio carato, bello questo vetro, molto comodo. Sì, diciamo, ottimo mezzo, sono sincero, ottimo mezzo, come bagno e letto preferisco il carato, veramente comoda questa dinette, senza... Ah, bene, bene, grandi tedeschi, numeri uno, bellissimo, bellissimo, veramente bello. Ah, qua abbiamo, non mi dite che c'è quello che io adoro, l'armadio, l'armadio, complimenti, complimenti, l'armadio non 540, penso sia un lusso. Qua abbiamo le prese, grande, grande carato, eh, sì, grande Weissberg e grande carato, ah, Truma Kombi, molto buono. Ah, qua abbiamo il presotto, qua, sì, è disposto, no, ottimo mezzo, ottimo mezzo, bello anche questo appendi abiti, l'armadio, sì, sinceramente, veramente complimenti, complimenti, spaziosissimo, il vano, eh, addirittura, è più largo, è più largo del carato, forse è più stretta, la parte qua, poi abbiamo, ah, bello tutto l'impianto qua, è più comodo anche, è più comodo anche, vedete, confusibili, lavoraci, invece carato ce l'ha sotto sotto... grande mezzo grande vai